Non è raro che i medici che lavorano presso le strutture pubbliche svolgano anche la libera professione. Ciò è permesso solo a determinate condizioni e soprattutto solo se quest'ultima non generi un conflitto di interessi tra i due lavori. Le fiamme gialle di Cosenza, facendo dei controlli incrociati in tale ambito, hanno scoperto che un dirigente medico ex dipendente dell'AS Bruzia, ora in pensione, per anni si era posto in palese condizioni di incompatibilità lavorando anche presso quattro strutture socio-sanitarie private accreditate col sistema sanitario nazionale, violando così il vincolo di esclusività che lo legava all'azienda di appartenenza e che comportava anche l'erogazione in busta paga dell'apposita indenità. Le indagini hanno permesso di accertare che effettivamente il medico avrebbe esercitato per anni la professione di geriatra presso queste strutture accreditate, nonostante non fosse possibile visto l'incarico ricoperto presso l'ASP, che tra le altre cose prevedeva anche il compito di vigilare sulle stesse, operando in evidenti condizioni di conflitto di interessi. Per evitare di essere scoperti, sia il responsabile delle strutture sanitarie che il dirigente avrebbero nel tempo falsificato la documentazione utile al mantenimento dell'accreditamento al sistema sanitario nazionale, inducendo quindi l'errore sia ai vertici dell'azienda sanitaria che quelli della regione Calabria. Ora il geriatra è accusato di truffa e falso ideologico e gli sono stati sequestrati 100.000 euro tra disponibilità liquida e immobile, che avrebbe percepito illegalmente quali indennità di esclusività legata proprio al vincolo di lavoro presso l'ASP di Cosenza. Inoltre le quattro strutture sanitarie sono state segnalate alla regione ed ora rischiano di pagare una sanzione tra i 3.060.000 euro.